devi mettere in vendita la tua reflex e non sai quanti scatti hai realizzato finora oppure sei semplicemente curioso di sapere a che punto del suo ciclo di vita è la tua macchina bene in questo rapidissimo video oggi voglio spiegarti come scoprire questa cosa ovvero quanti scatti hai realizzato finora con la tua reflex la procedura è semplicissima non devi fare altro che collegarti al sito www.camerashuttercount.com e caricata una foto realizzata con la tua reflex e vada bene non post prodotta quindi scatta una foto in jpeg tira fuori la scheda di memoria e carica la foto sul sito così com'è al termine del caricamento ti comparirà subito il numero di scatti realizzati dalla tua reflex questo è tutto come vedi è semplicissimo grazie della visione ci vediamo al prossimo video